Il Gurini ritrova la folla, ritrova le forze, ritrova le sgarzoline e tira fuori il meglio di sé. Nel centro di Seregno, attornato da stuoli di folla che lo incitano, lo aizzano a correre. Vediamo come non demorde, non si tira indietro. Insiste. Gli ultimi sprazzi, dice lui. Le folle si aprono al suo passaggio. Manco fosse il Papa. Nonostante la stanchezza, tira fuori i battute dal cilindro. Incitato dalla folla.